A Trivento una insufficienza respiratoria non dovuta al Covid ha portato via ai suoi affetti Fernando Di Berardino, suocero di Giampiero Porfirio, uno dei fratelli editori della nostra emittente televisiva e redattore dei servizi giornalistici della Testata. Non è stato il contagio da Covid ma una grave disfunzione respiratoria a portar via ai suoi cari Fernando Di Berardino, il suocero del giornalista, docente ed editore insieme ai fratelli della nostra emittente TLT Molise. Fernando Di Berardino è stato per tanti anni impiegato presso il comune di Trivento, il paese che lo ha visto sempre impegnato in numerose attività culturali, scegliendo ogni volta la partecipazione diretta a molte delle iniziative che si sono svolte nel corso degli anni. Un impegno quotidiano e attivo, portato attraverso le varie associazioni triventine, da quella denominata Cheope, prettamente locale che ha organizzato eventi sempre in linea con la storia di Trivento, le sue tradizioni e le scelte sociali e culturali, a quella denominata Anteas, che è di livello nazionale strumento di aggregazione complessivo dei pensionati della CISL. Lascia la moglie Silvia, le tre figlie Ersilia, Carla e Valeria, i generi e i nipoti. I funerali saranno celebrati a Trivento nella giornata di domani, giungano alla famiglia le più sincere condoglianze da tutti noi, giornalisti e tecnici, l'intero corpo operativo di TLT Molise.